Tutto è iniziato quando cominciavo a lavorare nel 2018 in un ristorante, lavoravo saltuariamente, poi a un certo punto quando ci fu la pandemia del Covid nel 2020, precisamente a giugno, mi fecero l'offerta di lavorare tutti i giorni lì, 20 euro al giorno. Quindi una pagata fame? Sì, io ho detto vabbè ci voglio provare, vediamo come va, ci provai, ma fatto sta che non mi volevo mettere in regola. Poi il lavoro era molto duro perché dovevo spostare tavoli e sedie, tavoli e sedie dentro, fuori, dentro e fuori ed era un lavoro molto duro. Oltre quello dovevo lavare la cucina, fare aiuto cuoco, fare il lavabbiatti, dovevo fare tutto in uno. Fino a che a un certo punto, a luglio del 2020, all'improvviso, mi sento male qui al collo. Ho un dolore assurdo, io mi sento spaventato, rimango a casa e non so che cosa devo fare. Inizialmente mi vengo col mio medico di base, però mi dice guarda evitare di andare in ospedale perché è pieno di Covid e non sapeva che fare. Vado ad un altro medico generico, secondo lui era fibromialgia, vado da un fisioterapista fino a che la mia situazione si comincia ad aggravare. Si aggrava perché a un certo punto, anche stanno a riposo, comincio a sentire dolore alla mano sinistra e poi dolore comincia ad radicarsi alla mano destra. Tre anni ho fatto visite specialistiche, mi sono anche operato perché comunque dalla risonanza era uscito fuori che io avevo una stenosi con delle ernie. Mi sono operato però ho avuto una ricaduta a caso una complicazione perché adesso ho un'etema della spongiosa dentro all'osso e ho ancora più dolore rispetto a prima. Ho fatto psicoterapia, psichiatria. Cosa è emerso? Uno psicologo ha detto che non disturbo la stress post-traumatico, sono andato quando è stato? Due mesi fa a farlo circa. Il fatto sta che nessuno ci capisce nulla, mi fanno tutte analisi diverse. In poche parole, a forza di sollevare, fare questo, fare quello. Capisce che molto probabilmente era dovuto al lavoro che aveva svolto? Sì, perché comunque è successo quando lavoravo là. Io spesso vedevo persone che online denunciavano le proprie situazioni. Decisi di farlo pure io, che io non sapevo che fare, avevo anche paura e non c'era nessuno. Quindi denuncia il fatto che ha lavorato per circa due anni a Nero, sfruttato per diverse ore al giorno con una paga misera. Lui l'è venuto a sapere, è venuto sotto casa anche a minacciarmi. Sfruttato per essere presa con mia madre. Era a settembre del 2022, io stavo buttato così a letto sempre per queste cose qua. Ognuno oramai qua a Napoli specialmente fa quello che gli pare, si ha il diritto di fare quello che vuole. Noi gliene frega niente, tanto se uno sta bene e sta male gliene frega un cavolo. Questa è anche una denuncia alla sanità? Sia alla sanità ma sia a chi va al lavoro. Lei quanto è mia? Io, ora ho 37 anni, quando è successo questa cosa ne avevo 35. E fino adesso non è mai riuscito a trovare un lavoro dignitoso? Ma no, scappate via perché qua non c'è proprio speranza di trovarlo. Sia perché non ci sono leggi adeguate, sia perché qua tanto ognuno, gli imprenditori, oramai, siamo a livello della camorra proprio, cioè fanno quello che gli pare e non se ne fregano di leggi e nient'altro. Eppure se vuoi denunciare, bisogna dire che in quanto tempo passa e che fanno. Ma scappate via, andatemi direttamente all'estero. E adesso quello che chiedo è una pensione di invalidità, perché pur volendo, anche se riuscissi a fare qualche piccolo lavoro, io poi mi sento male, io sto male in continuazione, non so che fare. Vorrei trovare una cura. E non ha avuto risposte dall'autorità competente? Ho fatto segnalazione all'Inps, cioè ho mandato una segnalazione all'Inps per l'invalidità, ma sto ancora aspettando da mesi. Perché quando riguarda la cura, i dottori non sanno che fare. Ho aperto questa raccolta fondi, sì, diciamo che bene o male sta andando, non dico benissimo, ma bene. Quanto è riuscito a raccogliere finora? Il totale l'ha segnato sui 1.300, però nel giro di tre anni. È l'aperta per cercare di ricevere soldi per pagarsi le cure? Sì, per pagare le cure, queste cose qua. Poi comunque è tutto segnato, pubblico le ricevute e tutto. Oggi è maggio-giugno 2023. Io non lo so che fine farò. Io non lo so, io ho paura. C'è poco da fare per me. C'è poco da fare per me.